La Presidente dell'Associazione Abruzzo BNB, Lucia Simioni, replica le dichiarazioni del Presidente regionale di Federalberghi, Gianmarco Giovannelli, che ha chiesto un intervento normativo che consideri i BNB imprese a tutti gli effetti e che paghino le tasse come le strutture alberghiere. Una vicenda su cui la Presidente Simioni ha voluto chiarire la posizione dei BNB, che ricordiamo sono regolamentati da leggi regionali, mentre il problema, secondo la Presidente, sta nelle locazioni turistiche che non sono regolamentate come le altre attività ricettive. Vogliamo intanto rassicurare il Presidente di Federalberghi, Gianmarco Giovannelli, sul fatto che i BNB non sono la minaccia per gli albergatori. Sono due categorie ben diverse, ben distinte, che offrono una ricettività totalmente diversa e con servizi diversi. Quindi coabitiamo, coesistiamo e contiamo di sempre di più collaborare, perché questo è lo scopo nostro principale. Mentre le locazioni turistiche, di cui si sta parlando a livello nazionale, e anche la Ministra Santanchè adesso sta intervenendo su questo, sono invece normate da leggi governative, leggi nazionali, dal Codice Civile. Sicuramente vanno normate, sono d'accordo con il Presidente, che vanno assolutamente regolamentate e normate alla stregua di tutte le altre attività ricettive. Dunque il problema è rappresentato dagli immobili ad uso abitativo messi in affitto per finalità turistiche, e per brevi periodi anche un solo giorno. Fenomeno in grande crescita nella nostra regione, questo perché per la Presidente Simeoni manca una normativa nazionale di settore. Che in sua assenza ha favorito negli anni l'abusivismo, l'elusione delle regole come il pagamento della tasse di soggiorno, è una concorrenza sleale che si ripercuote sul mercato. Quindi ci auguriamo che la Regione, visto che anche l'assessore Damario tante volte parlava appunto di miglioramento ricettivo, di aumentare anche le presenze dei turisti in Abruzzo, lavori con tutte le associazioni per favorire uno sviluppo immobiliare e uno sviluppo di ricettività sostenibile e che protegga questo delicato e meraviglioso territorio. Grazie. Grazie.